L'incrociatore Raimondo Montecuccoli è in rada nello specchio d'acqua antistante l'Accademia Navale di Livorno. Sta per iniziare l'annuale campagna di istruzione degli allievi dei corsi di Stato Maggiore, Armi Navali e Navalgenio. S'attende il saluto di comiato delle autorità. Il capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Pecori-Giraldi passa in rassegna agli allievi schierati sul ponte. Congedo ufficiale e saluto alle ragazze d'Italia. Saranno il Mar Rosso, l'oceano indiano, fino all'Australia che il Montecuccoli solcherà.